Una panchina accoglie tutti, una panchina offre uno spazio per dialogare, guardarsi in faccia e confrontarsi civilmente. È una panchina blu, blu come il mare, che è una distesa ampia ma delimitata dalle terre. Come ampia è la nostra libertà di esprimerci, ma restando dentro i confini della legalità. All'Istituto Comprensivo Margaritone di Arezzo gli studenti rispondono così all'atto vandalico di pochi giorni fa quando di fronte all'ingresso della scuola comparve una scritta, Ferma dei Novax, i vaccini uccidono, salva tuo figlio. La scritta venne subito rimossa, il fatto denunciato alle forze dell'ordine, ma oggi i ragazzi vogliono dare una risposta ancora più forte, inaugurando la panchina della legalità. Significa tanto, significa tanto, al di là dei pensieri personali che posso avere, come capo di istituto mi sento proprio di spingere, di porre l'accento su questo momento storico e quindi sul rispetto di quelle che sono le normative e di quello che è l'indirizzo che lo Stato ci sta dando per poter uscire da questa pandemia. Dopo l'episodio della scuola sono state attaccate e testate a retina, anche la nostra, ma anche gli altri colleghi, il sindaco, il vice sindaco Lucia Tanti. La giustizia ovviamente deve perseguire questi fatti, posto che ovviamente la libertà di tutti non deve essere lesa. Come si riesce a tenere questo equilibrio? Innanzitutto con la cultura. La risposta legale, la risposta giustamente anche repressiva dello Stato arriva dopo. In prima battuta ci deve essere cultura. Questo tipo di evento, è la mia opinione per carità, non potrei certo spacciarla come una risposta oggettiva o assoluta, credo che dipenda anche da una forte caduta del senso critico, da parte di una fetta della popolazione nel suo complesso. Quindi innanzitutto lo si combatte istruendo, fornendo informazioni, che poi potranno e dovranno essere valutate, in questo caso sempre criticamente, da chi le recepisce. Ma la principale risposta è questa. Ed il resto non è stata attaccata in risposta l'autorità giudiziaria, ma le fonti di informazioni e le fonti di controllo civico. Questo la dice lunga su chi queste persone individuano come interlocutori negativi del proprio messaggio. Sì, siamo stati oggetto, come altri, di eccessive attenzioni, di qualche minaccia. La qualcosa non ci smuove di un millimetro, anzi, sottolinea il bisogno di continuare a raccontare la verità, cioè che i vaccini sono civiltà, fanno bene. E il fatto che parta questo messaggio dalla scuola e ringrazio la dirigente, le famiglie, i ragazzi, i professori, è un modo per sottolineare che siamo tutti insieme in questa battaglia. Il nemico è il Covid, chi sta tra noi e il nemico è un nemico anche lui. Oltre alla panchina, anche tanti messaggi, tanti post-it che raccolgono i pensieri di questi ragazzi. Io penso che quando vuoi dire qualcosa, che tu pensi, di la voce invece di nasconderti e di scrivere quello che vuoi in dei muri, o così non sapranno mai chi sei. Penso che il vandalismo sia una modalità di spiegare davvero, davvero bruttissima, ma poi scriverlo sull'entrata di una scuola in cui passano ogni mattina tanti alunni è proprio terribile. Chi ha scritto questa frase sull'entrata di una scuola si dovrebbe vergognare. Io non capisco perché hai scritto quella brutta cosa. Tutte le persone, soprattutto i bambini, hanno dei veri sentimenti e tra questi c'è la paura che tu hai aumentato. Devi pensare più volte prima di fare qualcosa. Hai rinvinato un posto speciale per noi. Vergognati. Gli adulti devono essere, ad esempio, una semplice frase può creare molto caos. Facendo così avete dimostrato di essere immaturi e senza rispetto. Sareste felici se davanti alla vostra casa ci fosse una scritta contro di voi? Il vandalismo è un atto illegale, senza senso. Grazie. Grazie.